Prosegue il sogno dell'Orsogna che si avvicina a grandi passi verso il campionato di promozione. Bisogna però ancora superare alcuni ostacoli, tra i quali il prossimo triangolare che vedrà opposta la formazione della Presidente di Benedetto nella prima in casa con il San Benedetto dei Marsi, un avversario che non ancora si conosce bene perché è la squadra che faceva parte del Girone Aquilano. Ma più che parlare di questa gara, l'argomento lo affronteremo con il Ministero D'Orazio, torniamo un po' a parlare della sfida di domenica scorsa a Miglianico con il Giuliano Teatino. Una gara combattuta e anche ricca di polemiche, vero Vicepresidente Centanni? Innanzitutto buonasera a tutti, ti ringrazio di nuovo Antonio che anche questa sera sei qui con noi per starci vicino perché secondo me in queste occasioni anche questo conta, il tutto fa gruppo e ripeto ancora una volta che il gruppo ha vinto perché domenica abbiamo dimostrato sul campo e lo ripeto ancora una volta, sul campo abbiamo dimostrato la vittoria perché la vittoria che è arrivata all'ottantasettesimo, perché sì, da quello che ricordo l'ottantasettesimo, gran gol di Sferrella, il Giuliano Teatino è stata una squadra sempre ostica nei nostri confronti, lo sapevamo, è una finale, ci può stare tutto, però le polemiche le lasciamo alle spalle perché anche in Serie A si sbaglia, il nostro giocatore ha ammesso, ha giurato e l'ha rigiurato anche quando siamo stati a cena la sera anche perché là non è che ci stavano altre persone, ci stavamo solo noi, mi ha detto Andrea, l'ho toccato col viso, mi ha sbattuto qua quindi è inutile che vogliamo alimentare ancora. È finita la partita, 2-1, abbiamo vinto, stavamo perdendo 1-0, abbiamo pareggiato 1-1 ci hanno annullato un gol per noi regolare, sempre di Sferrella, quindi se vogliamo andare a polemicizzare, andiamo a polemicizzare tutto ma non serve perché noi vogliamo essere professionisti anche in questo caso. Adesso ci stiamo preparando per la partita di domenica con il San Melletto dei Marsi che penso che sia un'altra sfida che andrà veramente a dimostrare che siano quelle partite di altre categorie la prima categoria secondo me non c'è stata né domenica scorsa e non ci sarà domenica 29 maggio perché il 22 maggio abbiamo dimostrato è entrambe le squadre che esprimiamo un gioco diverso dalla prima categoria e il pubblico stesso ha detto questo e niente domenica prossima il 29 maggio appunto ci andiamo a giocare questa prima partita, i ragazzi stanno carichi la società ha solo voglia di andare avanti e vincere quindi il nostro capitano sta caricando i ragazzi alla grande infatti lo ringrazio Primiterra che la mentalità giusta è quella vincente e con questa mentalità noi domenica andiamo in campo e andiamo a vincere la partita. Mister Paolo Dorazio quest'anno ha avuto modo di vincere la sfida con il Giuliano Teatino dall'altra parte della barricata perché l'anno scorso ugualmente nei playoff l'aveva persa ma allenando il Giuliano Teatino. Buonasera, questo è il calcio, l'anno scorso mi trovavo sulla banchina del Giuliano Teatino purtroppo tutti sanno come è andata a finire, quest'anno invece è andata meglio mi dispiace aver trovato il Giuliano Teatino lungo la nostra strada ma il calcio è questo però credo che domenica sia stata una partita giocata da tutte le squadre in modo corretto c'è stato un buon calcio per cui parte qualche polemica che ci può stare ma il calcio è questo però credo che comunque le due squadre si sono affrontate a viso aperto e noi siamo stati bravi abbiamo tenuto bene il campo specialmente al secondo tempo abbiamo espresso magari un gioco un po' migliore in confronto alla privazione di gara e credo che poi sia stata meritata la vittoria dell'Orsogno. Adesso si deve pensare però alla prossima sfida ancora più importante la prima del triangolare con il San Benedetto di Marsi è un avversario che obiettivamente non conoscete così come loro non conoscono voi beh sì effettivamente non è che conosciamo tanta della squadra che dobbiamo affrontare però credo che in questo momento sia la mentalità, la tranquillità, la serenità, la voglia di far bene che possa fare la differenza. Abbiamo la possibilità di giocarla questa prima gara in casa e credo che sia determinante la vittoria per il proseguo poi del mini torneo quindi ci auguriamo che possiamo disputare una buona gara e poterla vincere. Purtroppo nell'organico mancherà uno dei vostri punti di forza che ha trovato un lavoro in Sardegna stenta e quindi non sarà della partita. Beh sì effettivamente abbiamo saputo da qualche giorno che Stenda purtroppo ci lascia ma chiaramente il lavoro è la prima cosa specialmente in questi momenti e quindi Stenda è stato un giocatore fondamentale un ottimo ragazzo, ha delle ottime qualità sia calcistiche che umane ci dispiace ma speriamo poi di ritrovarlo nella partita successiva insomma.